1, 2 e 3 Labyrintho, andiamo a fare labyrintho, siamo in Svizzera, sopra il lago di Lugano Andiamo Andiamo a fare niente Aspetta, fermati Mamma, veloce Ci siamo? Dai, dai Dai, dai Andiamo di qua o di qua? Andiamo di qua Vieni, vieni Vieni Ila, vieni qua Ti hanno trovato il centro, su, il centro Ci siamo? Sì, sì Ci siamo Stiamo vedendo o no? Allora Prendiamo destra o sinistra? Andiamo di qua In centro, dai Qualcuno ha tranciato per fare il furbone Non è possibile Vieni, vieni Sì, sì Ciao Ma che piccolo secco Andiamo? Io l'abbiamo sempre fatta Allora Abbiamo trovato intanto Ah, beh, ti perdi Bello qui, eh Qui è proprio in mezzo, allora Qui è nel mezzo del labirinto Siamo appunto in Svizzera, sul lago di Lugano C'è questo labirinto E qui ci sediamo Di piante di faggio E dobbiamo uscire E qui dovevamo mangiare il panino Eh, ma tutt'altro In mezzo del labirinto Perché ce ne vuole per trovare poi la strada Eh, faggio Andiamo Andiamo E cos'è? Com'è? Eh, cosa lì? Come si chiama? Castagno? No, 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 no Carpino 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 Vabbè, lì Carpino, dai No, no Dove siamo? Girati qua, va Facciamo lungo, non riusciamo più Andiamo È venuto il sole, però, eh Sì, ecco Dove andiamo viene il sole Dove andiamo viene il sole Quindi già è bello Già è bello Dai, se lo facciamo su YouTube Se lo vedono tutti E se Dailymotion Video Vimeo E Vimeo Vieni 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 Già Luigi Dai, dai, dai Ma cerchiamo di uscire, però Possibilmente E facciamo pure quest'altro giro Possibilmente la guida Perché ci farà la giro Ora facciamo pure quest'altro giro Ci troviamo Venti anni Giriiamo Venti, trent'anni, eh Più o meno Dai, dai, dai Cerchiamo di uscire Noi cerchiamo di uscire Noi cerchiamo di uscire Siamo usciti No, siamo ancora dentro Attorno un attimo Ma io C'è l'uscita Guarda lì che c'è l'uscita Guarda, vieni, vieni Dai, dai, dai Oh, adesso Siamo usciti Siamo usciti, siamo usciti Siamo usciti Siamo usciti Sul lago di Lucano Siamo usciti dal labirinto Sì, va bene Adesso devo andare a prendere Da lontano Siamo usciti Questa è la porta Vai vedere la porta Siamo usciti Va bene Va bene Va bene Basta Va bene, grazie Siamo usciti Siamo usciti Nel parco dei fiori Iniziamo dal mio vestito Che ci sono i fiori Ecco Molto, molto bello Questi fiori Molto belli E adesso prendiamo Gennaro Panorama Il lago Sul lago di Lugano Il lago di Lugano Ecco Noi siamo sopra Per visitare tutti i fiori Che sono nel parco E qui Tutti i fiori Ecco Osservate che fiori belli Con i monti Bellissimi Bellissimi Anche I fiori Giù Dai, dai Ecco Sai Gennaro Siamo in Svizzina Sul lago di Lugano Siamo venuti A visitare i fiori A vedere tutte le specie Di fiori Qui al parco Bene Molto bello Vediamo Vediamo un po' Anche di qua No, no, no Fiori 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 e qui ci sono tanti fiori perché questo è il parco Gennaro non andare troppo... troppo là ancora un po' dai prendi tu un pochino su Qua è il lago di Lucano? Sì Ecco il lago Bellissimo fiore giallo e ora prendo questo che farò volare tutti i fiorellini, i semini vedi volano da solo e poi si dice pure ricordo che dicevamo da bambini papà sali 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 ecco sono saliti tutti capito? E dietro il labirinto va bene ciao a tutti e farò vedere un fiorellino un fiorellino un fiorellino ecco abbiamo il vento un passo è perso mamma è andato giù un fiorellino è andato lì vabbè poi dopo dopo lo prendiamo vabbè vabbè dai questo... oh! tutti si sono persi questo è il fiorellino che mi piace tanto va bene è lì i fior di campo va bene ecco sono gialli lucidi come la seta bello eh ciao bellissimo fiorellino di campo quelli che piacciono a me lucido come la seta è un petalo e qua un bocciolo e dove è andata a finire? lo cerchiamo? qui è scappato via un petalo ecco però c'è il bocciolo e qui è il fiorellino di campo quelli che piacciono tanto a me eh? è lucido come la seta bellissimo bello? bello 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 va bene ciao ah questo me l'hanno regalato i miei figli queste due margherite sono belle eh? bellissime perché oggi è la festa della mamma e anche i fiori di prima i fiori gialli che mi piacciono tanto anche queste mi piacciono anche queste mi piacciono eh? comunque ci siamo divertiti eh? sì sì soprattutto nel labirinto che non uscivamo più sì ecco molto divertente ciao venite a vedere il cuoco il cuoco il cuoco grasso come me grasso come me grasso grasso crotto siamo in svizzera è rifatti la bandiera la bandiera dai siamo qua dalla svizzera siamo qua e fai vedere la bandiera la bandiera siamo qua dalla svizzera sì sì saluti a tutti qui c'è Gennaro ci fai stare la mamma auguri mamma grazie siamo venuti qua in svizzera a vedere un po' le cosine belle sì belle molto belle guarda il piccoletto anche qua nel piccolo guarda che belle bella chiesetta eh? bella chiesetta bella chiesetta poi fiorellini vicino a quella finestrina caratteristico che bei fiori aspetta ma devo prendere la borsa arriviamo aspetta questi arriva Gennaro questi fiori sì ma siamo abbiamo lasciato la borsa lì sì bene belli eh e poi quell'altra pianta lì questi sono anche profumati sì tutto il vicolo lì ed è incredibile c'è forse ah l'ha preso un'altra meridiana che Gianluigi si è dimenticato se non era per noi un vicolo c'è un'altra meridiana guardate che bello che bel posticino con tutta canzonetta la canzonetta due draghi i draghi i draghi e poi un'altra meridiana qua sì bella bellissima e lì addirittura lì addirittura lì addirittura tutta una scultura stile toscano e non mi ametto portafortuna Grazie Grazie